ma c'è il quadruccio e il cappelletto a me il cappelletto mi sto non ti cogliendo no perché ma fino al minuto fa cantavi ti sei incazzato nonostante tutto si riabbassano le temperature perché qui è molto freddo e ecco qua sta nevicando guardate come si sta muovendo la neve sulle nuvole incredibile guardate come si muove ecco qui sta nevicando riaprono tutti gli impianti ciliciti riapriamo tutto tutto tutte le discese libere guardate come si in più mettecene più dai 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 si in te sacco di coglioni che metto tutto rispetto il feretto va beh ma in buoni dai no ma io da tutta minestra c'ha due cappelletto guarda sarà 200 grammi di minestra ma guarda che lavoro guarda che lavoro è il lavoro di coglioni ah ma chi è che fa arzughe o no che arzughe o no che arzughe o no che arzughe risponde il coccodrillo grazie a tutti Grazie a tutti